Slippers è una pellicola del 1996 diretta da Barry Levinson, tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra. Il film ha un cast da sogno che comprende attori come Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Kevin Bacon e il nostro leggendario Vittorio Gassman. Slippers fu un successo mondiale che incassò oltre 160 milioni di dollari in tutto il mondo dopo un investimento di 44. Il termine Slippers fa parte dello slang americano e ha diverse interpretazioni. Secondo alcuni infatti si riferirebbe a delle persone che in passato sono state recluse in dei riformatori, oppure a dei giovani che sono al momento rinchiusi in carcere e che avranno un futuro da criminali. Secondo invece quanto dichiarato dall'autore del romanzo, uno Slipper è un minore che è stato condannato a più di nove mesi. Nessuno in questa famiglia deve andare in galera! Io me ne sono fatta abbastanza per tutti quanti! Il film racconta una storia vera? Beh, sia la procura di New York che l'istituto frequentato da Lorenzo Carcaterra hanno decisamente smentito possono essere accaduti dei fatti simili. Per quanto riguarda invece Carcaterra, pur avendo romanzato un po' le vicende, ha sempre sostenuto la veridicità dei fatti. Ma allora perché ce l'ha raccontato? Non lo so, forse aveva bisogno di dirlo a qualcuno. Slippers è il primo film che vede la collaborazione tra due grandi attori come Robert De Niro e Dustin Hoffman. De Niro aveva la caratteristica di rimanere sempre nel personaggio anche durante le pause, mentre Hoffman appena poteva tornava a rifugiarsi nella sua rullotto, voleva rilassarsi. I due al termine della giornata lavorativa spesso si ritrovavano nel camerino di De Niro per farsi quattro chiacchiere e bere qualcosa. Brad Pitt invece si sentiva parecchio spaesato perché in quel periodo la sua carriera era appena esplosa e si trovava circondato da persone che continuavano a propogli contratti e a dirgli cosa dovesse fare. Non riuscì proprio a concentrarsi sul personaggio. E voi sapete cosa vuol dire, dato che vedete tanta televisione quanta ne vedo io. Durante le riprese il grande Vittorio Gasman stava vivendo un periodo di pesante depressione e faticava ad arrivare sul set con la grinta giusta, quella grinta che lo aveva sempre caratterizzato in passato in tutta la sua lunga carriera. Sia il regista che Dustin Hoffman capendo il suo stato furono molto gentili con lui, ma fu sua moglie diletta a sostenerlo, ad aiutarlo tantissimo e a far sì che Gasman portasse in scena una bellissima e grandissima interpretazione. A che ora domani? Quando vuoi. La trovo qui. Io sono sempre qui. Le riprese del film si sono svolte quasi totalmente a New York, mentre il riformatorio invece si trovava a Newtown nel Connecticut. La struttura che vediamo era il Fairfield Hills Hospital, un ex ospedale psichiatrico dismesso. Per la scena della sua morte, girata in uno studio, a Kevin Bacon furono applicati sette piccoli esplosivi, ma nonostante indossasse un giubbotto antiproietile e fosse protetto, l'attore subì alcune ostioni causate dalla polvere da sparo. Kevin Bacon e i ragazzi che interpretavano i detenuti si divertivano moltissimo insieme, scherzavano sempre sul set, anche prima di girare le sequenze più drammatiche. Faticavano perfino a rientrare nei loro personaggi. L'attore era un grande fan di Robert De Niro e Dustin Hoffman, ma purtroppo per lui non li incontrò mai sul set, perché le date delle loro riprese non riuscivano mai ad incastrarsi. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che nel film ci sono diversi riferimenti al famoso romanzo Il conte di Monte Cristo. Ovviamente alla base c'è il tema della vendetta, ma ad esempio c'è anche la parola in codice utilizzata da Michael, Edmund, che è un richiamo al nome del protagonista di quell'opera, ovvero Edmund Dantes. Inoltre, durante le riprese, gli attori adolescenti furono costretti dal regista a indossare le lenti a contatto colorate, in modo da avere lo stesso colore degli occhi degli attori che le avrebbero rappresentati da adulti. Alcuni di loro fecero davvero fatica a sopportarle, tra un ciò che l'altro infatti correvano in camerino a togliersele. Infine abbiamo trovato un piccolo errore. Quando nel film i ragazzi cercano di rubare il carretto degli hot dog, possiamo notare una bandiera della Grecia sventolare. All'epoca dei fatti narrati, gli anni 60, la bandiera greca aveva però un'unica croce bianca su uno sfondo completamente blu. Quella che conosciamo oggi e che viene erroneamente mostrata nel film è stata istituita ufficialmente dopo il 1974. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come Slippers.